A distanza di 11 anni dall'uccisione di Marco Puntorieri, consumata a Reggio Calabria nel settembre 2011, la DDA ha notificato un avviso di conclusione indagini a Edoardo Mangiola, di 42 anni, accusato di essere il mandante detenuto in carcere a Bologna perché coinvolto nell'inchiesta Metameria, confluita nel maxipocesso epicentro, Mangiola è ritenuto esponente di primo piano della Cosca Libri, nell'ambito della quale sarebbe maturato l'omicidio Puntorieri, un delitto per cui sono stati già condannati all'ergastolo Domenico Ventura e Natale Cuzzola. Dopo aver acquisito il materiale necessario per le videoriprese e dopo aver studiato la logistica dei luoghi in cui è avvenuto l'agguato, Mangiola, si legge nel capo di imputazione, si appostava nei pressi dei luoghi in cui si è consumato l'omicidio, riprendendo anche direttamente tramite una videocamera mobile alcune delle fasi essenziali dell'azione che convolgeva il solo Ventura. Quel filmato è stato consegnato ai carabinieri tramite le buone relazioni di Mangiola con un maresciallo nell'ambito del rapporto confidenziale con il militare. Infatti, secondo i PM, Mangiola avrebbe fatto recapitare alla stazione di Reggio Modena un file contenente video e fotogrammi che fornivano evidenti prove a carico del solo Ventura per l'omicidio. Da qui il primo processo concluso nel 2016 con la condanna all'ergastolo per i primi due imputati. Quella verità processuale però per la DDA è solo parziale dell'omicidio. Sarebbe responsabile anche Mangiola che ha agito scrivono i PM insieme ad un altro complice.